Oggi è stata una giornata molto importante perché abbiamo visto moltissime esperienze di applicazioni nel campo energetico della sostenibilità applicate naturalmente al contesto civile e al contesto produttivo. È molto significativo l'impegno che tutti i soggetti pubblici, privati, ma anche banche stanno mettendo proprio nel trovare dei modelli di finanziamento degli investimenti che sono necessari oggi per riuscire a rendere veramente efficiente il nostro patrimonio edilizio. Da un lato abbiamo visto le imprese che stanno investendo in modo significativo sul tema energetico anche in una logica di economia circolare. Dall'altro abbiamo visto le banche con modelli di finanziamento molto innovativi che stanno uscendo insieme ai fondi di provenienza pubblica. Abbiamo visto diverse esperienze nel campo degli enti locali e anche questo è un punto molto importante sempre con il concorso anche di privati sotto forma di ESCO. e poi abbiamo visto l'intervento di coloro che sono i portatori delle competenze vere, i valutatori di questi progetti, coloro che studiano quelle che sono le diverse compatibilità. Quindi credo una panoramica molto importante. L'appuntamento a questo punto è per il prossimo anno dove questi progetti, frutto anche di una grande progettazione europea della forte partecipazione della nostra regione anche ad Horizon potranno essere messe a punto ulteriori esperienze, essere allargate queste sperimentazioni e attraverso anche il cluster dell'energia e dell'ambiente che è stato costituito proprio in questi mesi sarà possibile, io credo, dare le gambe a un progetto importantissimo quale è quello delle efficienze energetiche e della riduzione delle emissioni nella nostra regione insieme ovviamente allo sviluppo straordinario che potranno avere le energie rinnovabili. Grazie.